Filetti, Mazzei, Ligna, Pierbolino, Sfera, Maddaloni sono solo alcuni dei tutor che compongono la squadra di oggi e ci sono anche delle new entry in cucina, ma... Bambini, così capirà la mamma cosa fa quando viene su a Milano, va bene E niente, la mamma è emozionata, oggi è così Allora, le ho seduta su questa poltrona perché tu nel 2018 hai deciso di presentarci il tuo ospite con il gioco del Se Fosse Giochiamo L'800 potevano così permettersi di decidere di abbandonare la città e decisero di tornare un pochino, lasciare il caos Non è che dobbiamo andare a vivere in campagna per la zona Perché comunque il legno ti dà quel sapore vissuto Questa credenza classica in legno può essere abbinata sia alla zona pranzo che alla zona del soggiorno Quindi è un elemento comunque con la vetrinetta che si rifà un pochino a quello stile e funziona sempre molto bene Allora, facendoci allo stile country Prima parlavamo del legno, non è detto che il legno sia universale, cioè che possa andare bene sempre Ad esempio così Cosa abbiamo in questo contenitore? Cosa abbiamo in questo baule? Dei cuscini Ad esempio Bello questo Di questi cuscini abbiamo due verdi che possono essere ottimi come tonalità, come colore Utilizzare uno è sicuramente adatto, gli altri forse... In questa trasmissione le cose che vanno... A te in generale, ma a tutti quanti, gli amici a casa, perché grazie al mio grande... Non si chiamerà più Fratelli d'Italia, ma si chiamerà... Oggi intensifichiamo lo sguardo di Alessandra Alessandra ci ha chiamato... Cessi e sarei un bravissimo medico Grazie mille, speriamo Grazie mille, speriamo